Il sistema simbolico. Questo strumento in particolare è costituito appunto da tre simboli, simboli archetipici che ricordano appunto gli elementi fondamentali con cui noi abbiamo avuto riferimento ancora sin dalla nostra primissima infanzia. In questo caso parliamo appunto del simbolo asta che riguarda la figura paterna, il simbolo triangolo che riguarda la figura materna, possiamo anche esprimerlo in questo modo o addirittura anche in questo modo, il simbolo cerchio, il simbolo cerchio riguarda l'ego e siamo noi. Il sistema simbolico. Questo strumento in particolare è costituito appunto da tre simboli, simboli archetipici che ricordano appunto gli elementi fondamentali con cui noi abbiamo avuto riferimento ancora sin dalla nostra primissima infanzia. In questo caso parliamo appunto del simbolo asta che riguarda la figura paterna.